Saperse, saperse. Servizia? È venuto bene? Non lo so, io non l'ho vista. Ma le pietre si accomodano. Aspetta che ora si rigira un attimo. Non è possibile. 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 Guarda, che è fottica. Siamo arrivati a Ferragoso. Sto camminando. Da Farindo. Da Farindo. Non sono pure i cavalli liberi stato la Piana. Sono un ristaggiato. Sì 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 come lo faccio risolto io poi se c'è un po' ragazzi lo dirò perché io io lo sai perché si mentre si sta mangiando non hai beccato me non hai gioco a bocca piena dobbiamo beccare anche di aposticina è cotto? è cotto? è una pomodora è la pomodora ma io ho mangiato tutto ho finito ho finito quello che stava là dentro ho deciso di origine io tornavo a mettere in giocchi mi mette quante rocciole? 54 in Italia quindi adesso nel giro di mi metto un francheri venga qua qui walks in Italia questo è un franzaggio mi metto un franzaggio ma lì hai un aspetto la parla Luca per le mangiamento dice attra escalata donna ma metto i Sì, non è buono, è un gongorrello è buono. Sì, non è buono, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Sì, non è buono, è buono, è buono, è buono. Sì, non è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Non ci pensate che bello sentire freddo? Non ci pensate che bello sentire freddo. 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 Non ci pensate che bello sentire freddo.